Gli scapigliati e anche i macchiaioli sono i due movimenti che portano in modo diverso, portano l'arte dell'Ottocento nella modernità. Lo fanno perché loro si pongono il problema della forma, si pongono il problema del come dipingere e non quello del contenuto. Il contenuto era invece ricercato ed era stato ampiamente trattato in tutta la prima metà dell'Ottocento dalla pittura ufficiale accademica, prendendo spunto lavorando sui temi della grande tradizione storica e letteraria italiana, ovviamente in un'ottica risorgimentale. Siamo in un'ottica lombarda, questo è importante perché il precursore della pittura degli scapigliati è senz'altro Andrea Carnovali, il Piccio. Si forma sulla pittura di Correggio, prende il gusto del non finito, così come dai Veneti il colore e in generale comunque della pittura lombarda del Cinquecento la resa atmosferica, l'attenzione per la resa atmosferica. Quella del Piccio è una pittura veloce, non finita, di getto. È una pittura che non viene apprezzata per questo, ed è una pittura che non è amata neanche per i temi, perché i temi sono temi mitologici con un grosso background culturale, ma sono temi fuori moda. Il nome scapigliatura deriva dal termine bohème che Cleto Arrighi aveva preso dai francesi e voleva dire vita da zingari, vita senza regole, la vita degli artisti parigini. Certo è principalmente quindi anche un movimento letterario e ha come obiettivo, come bersaglio della loro poetica, la retorica dell'unità nazionale sabauda. Con l'unità nazionale agli artisti viene detto, viene chiesto esplicitamente di dipingere i temi dell'unità nazionale. I scapigliati, che sono giovani, rappresentano veramente la bohème italiana milanese, parallela e contemporanea a quella parigina e francese. Vanno contro invece alla borghesia del tempo, vanno contro all'Accademia di Brera e vanno contro a un'ideologia positivista che aveva prevalso in tutta Europa e che ormai, dopo la rivoluzione industriale, aveva un po' svelato le sue carte, aveva fatto vedere come in realtà la società fosse ormai diventata una società di massa, quindi una società alienata e alienante. È importante il rapporto di questi artisti con Parigi. Perché? Perché Milano era a quel tempo sicuramente una capitale culturale in stretto collegamento con la Francia e con Parigi. E questi artisti conoscevano gli scritti di Baudelaire, di Edgar Allan Poe, ma anche e soprattutto di Hoffman e di Mary Shelley. Hoffman aveva pubblicato nel 1816 L'Uomo della sabbia, un racconto che adesso potremmo quasi definire horror, ma che ci interessa per il nostro discorso. E Mary Shelley naturalmente è la famosa autrice di Frankenstein. Perché Frankenstein è importante per gli scapigliati? È importante perché in realtà la tematica di questi artisti, di questa letteratura internazionale che arriva a Milano, che viene eletta dagli scapigliati, è una letteratura che ci parla principalmente del Unheimlich. L'Unheimlich o la Unheimlichkeit è un termine tedesco che letteralmente, se guardiamo i dizionari moderni, contemporanei, di tedesco significa spaventoso, non familiare. Naturalmente per essere spaventosa una cosa però non basta che sia non familiare o non conosciuta, se no qualsiasi cosa sconosciuta per noi sarebbe solo motivo di spavento. Ma la caratteristica che il termine Unheimlich porta dentro di sé non è solo quello di essere non familiare, ma anche tenuto nascosto. Tenuto nascosto nel senso di affiorato. Tutto ciò che poteva restare segreto ed è invece affiorato. Questo è un Unheimlich. Ecco, partiamo da questo punto. Il tenuto nascosto. Il tenuto nascosto ci interessa perché la pittura degli scapigliati non è più una pittura come quella degli impressionisti all'aperto, una pittura della luce del sole, è una pittura di interni, una pittura di interni borghesi. Quello che ci interessa è quello che avviene all'interno di questi salotti. Allora se prendiamo le scene per esempio di Cremona, tranquillo Cremona dipingeva con una tecnica estremamente raffinata in cui prevaleva l'ambiguità leva il non detto, il non visto. Lui fa sua la tecnica del picchettivo sfumato leonardesco e la tecnica sfrangiata di una tecnica estremamente musicale, una tecnica dove prevale una lotta tra una pennellata pensata e una pennellata invece di correzione, aggiunta, di copertura. L'insieme di questi due momenti porta Cremona a creare una sorta di cortina tra noi e il quadro. Noi vediamo l'immagine, l'azione sulla tela come filtrata attraverso un vetro che ci opacizza, ci offusca, ci confonde la storia, la narrazione. E' proprio questo quello che in realtà destra scandalo nella borghesia milanese. La borghesia milanese si racconta di non amare, di essere scandalizzata dai temi di Cremona che sono temi sempre passionali, amorosi, gli amanti, uno dei suoi quadri più conosciuti. E' un quadro dove sì ci sono due amanti ma ci sono anche due forze opposte di lui e di lei. Allora forse la Cremona non ci racconta una storia d'amore ma ci racconta anche una storia di amore e repulsione, di amore e di odio. E' esattamente questo che è sempre stato nella storia il nucleo dei rapporti umani e che Freud nel 18 e nel 19, quindi pochi decenni dopo, esplicherà chiaramente. E' proprio questo perturbamento che crea lo scandalo, non certo semplicemente l'aspetto amoroso di due amanti, ed è questo il vero motivo dell'insuccesso della pittura scapigliata nelle collezioni lombarde, a cui vengono preferiti naturalmente i lavori di Hayez e Bertini. E' l'affiorare del un limelick, del perturbante, di qualcosa di disturbante per la società del tempo. Altri artisti naturalmente importanti sono Ranzoni, che era famoso per i suoi ritratti, e Carcano che dipinge nel 62 la piccola fioraglia, dove è evidente un senso di smarrimento esistenziale rispetto all'etica positivista del tempo. Boccioni si interesserà poi alla pittura divisionista, ai gruppi divisionisti, ma si rende conto che i divisionisti non possono prescindere dagli scapigliati. Non possono prescindere perché la scapigliatura è una tecnica, è una pittura che usa la luce. I colori che si perdono, si sfumano in queste scene così evanescenti, hanno la necessità della luce. E questa è la differenza, per esempio, invece con i contemporanei pittori post-impressionisti del simbolismo. Nel simbolismo il colore non ha più bisogno della luce naturale. Il colore è simbola, ha valore in sé. L'ultima ondata di artisti della scapigliatura apre le porte alla pittura divisionista. Pensiamo a Medardo Rosso, pensiamo a Previati, a Morbelli. Sono artisti in cui adesso l'analisi sul colore diventa stringente, diventa quasi scientifica. In conclusione possiamo dire che nella seconda metà dell'Ottocento sono due grandi correnti culturali che portano l'Ottocento nella modernità. Sono da una parte i macchiaioli con la pittura di macchia tonale e da un'altra parte una pittura completamente diversa, una pittura di segno che parte dal piccio, viene sviluppata dagli scapigliati e che arriva poi a una tecnica più strutturata che quella del divisionismo e che si concluderà con le prime esperienze di Boccioni e di Balla all'inizio del Novecento.